Raccolta differenziata. La Commissione Bilancio dell'Ars ha ripristinato il fondo destinato alle amministrazioni comunali virtuose in fatto di raccolta. Si tratta di 31 comuni siciliani che riceveranno 2 milioni di euro. Il Presidente della Regione Nello Musumeci ha firmato il relativo decreto che assegna un contributo ai comuni che nel corso del 2017 hanno superato il 65% della raccolta. Agrigento è la provincia con il maggior numero di comuni virtuosi tra cui figurano Calamonaci, Ioppolo, Giancaxio, Montevago, Raffanali, Realmonte, Ribera, Sampuca di Sicilia, Santa Margherita di Belice, Sant'Ancelo, Muxa. Auspico, afferma il Presidente Musumeci, che questa iniziativa possa essere da stimolo a fare sempre meglio per tutti gli altri enti locali. Nel corso dell'ultimo anno la percentuale di raccolta differenziata è aumentata del 50% e di questo voglio ringraziare gli amministratori e i cittadini di tutti quei comuni che con tenacia e determinazione, aggiunge Musumeci, si sono impegnati in questa vera e propria battaglia di civiltà. La Regione, dal canto suo, sta operando intensamente per recuperare anni di inerzia e di omissioni. Il suo compito è quello di pianificare la realizzazione degli impianti, sollecitare la riapertura di quelli inattivi e vigilare sulla corretta gestione della raccolta e dello smaltimento da parte dei comuni. Sono fiducioso, conclude il Presidente della Regione, che entro un paio d'anni usciremo del tutto dall'emergenza rifiuti. E restanto in tema di differenziata, ad Agrigento non si placano le polemiche relative proprio alla raccolta che continua a creare confusione e rabbia tra i cittadini, anche quelli che vorrebbero adeguarsi alle nuove disposizioni, ma che non vengono aiutati a farlo magari con nuovi volantini per indicare a chiari lettere il da farsi. Insomma, nessuno avrebbe immaginato che ad Agrigento la raccolta differenziata, sinonimo di civiltà, si sarebbe trasformata in un vero e proprio rompicapo per tanti agrigentini. Dal canto suo l'assessore all'ecologia Nello Amel continua ad usare la propria pagina Facebook per rispondere ai quesiti della gente. Sempre superfluo dire che il mezzo usato dall'assessore lascia il tempo che trova perché Facebook non può essere il canale ufficiale per un amministratore.